Musica Buonasera da Terranova da Sibari, stasera la festa dello stiso che è un modo antico con cui facevano la pizza e ovviamente non potevamo che essere noi gli intrattenitori musicali di questa serata ieri festa del contadino, oggi festa della stisa noi siamo come ben vedete le muse del Mediterraneo, è iniziato fortunatamente questo nuovo tour 2018 ci stiamo preparando a tante altre piazze, restate connessi, seguiteci perché senza il vostro sostegno il nostro lavoro ha poco senso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti